È una prova per vedere se a livello di mentalità siamo cresciuti, è una partita difficile per rischi di carattere specifico perché De Zerbi mi sembra un allenatore che ha idee, mi sembra un ragazzo di grande determinazione, quindi manderà in campo una squadra a un grande livello di fame e di voglia e dobbiamo arrivare pronti, è una partita pericolosa. Si parla del Napoli, come se il Napoli avesse due squadre, la realtà è che in questo momento invece abbiamo pochissima possibilità di alternare i giocatori, dietro abbiamo un Maximo Bicci appena arrivato che ha saltato buona parte della preparazione estiva e quindi ha da ritrovare condizione. E chiaramente ad abituarsi al nostro modo di allenarsi, Tonelli che ha fatto due allenamenti per la prima volta con noi questa settimana, abbiamo Chiris che purtroppo si è infortunato in nazionale, abbiamo De Avarà che non ha fatto preparazione estiva e quindi in questo momento deve pensare a crescere di condizione a allenarsi, abbiamo Rog che io ancora non ho mai visto un campo perché è arrivato ieri, abbiamo Giaccherini che è riduce da un infortunio e solo da due giorni si sta allenando la squadra, quindi in realtà in questo momento e nelle prossime settimane avremo una rosa molto risicata a disposizione.